Milan-Inter, Euroderby, dobbiamo scegliere per ruolo il giocatore più forte. Abbiamo un 3-4-3, partiamo dal portiere. Qua ovviamente tra Nona e Magnanna, io preferisco personalmente Magnanna, ma secondo me è una scelta abbastanza condivisa. Tre difensori, io metterei al centro Skriniar, che secondo me è il difensore attualmente più forte delle altre scelte che abbiamo. Metterei Bastoni al posto di Kier, il buonissimo Tomori, che secondo me è un ottimo difensore. Barella al posto di Tonali, secondo me Barella è più forte di Tonali. Metterei come Mastinino centrale Smile Benasserra. Deo Hernandez al posto di Di Marco. Nulla fascia destra invece io metterei Dumfries, non possiamo mettere Di Marco perché Di Marco gioca da quell'altra parte. Alla sinistra ovviamente Lea Aor. Alla destra non ci sono grossissime ali destre nell'Inter, quindi io metterei Buon Salamandra. Piru, Lukaku, secondo me Lautaro è il giocatore più forte di questi tre. Scrivete qua sotto nei commenti il pronostico esatto.